Tempo di giornata E' ripetito numero 1 E' già terminato la prima fase di percorso Esercizio della parte centrale interpretare 3 e 60 di me la retomarcia E' a cavallo nella linea di stop Non si è fermato in secondo signori 8 per lui Prima boa Seconda boa Che lo conduce nell'ultima parte di percorso In fase di andata 3 e 60 in gabbia E' successivo il ritorno Entrata nel semicerchio E' eccolo di già Nella parte centrale del percorso 3 e 60 libero Signore e signori un applauso Per donato a ritorno Un secondo Di secondo 1-0-1-70 Abbassa nuovamente il suo stesso record Donato Argentiero 1-0-1-70 E' un tempo incredibile E' donato a Argentiero Signori e signori 9 volte Campione del percorso